Caorle è una città turistica, quindi la base principale dell'attività del paese, oltre ovviamente che la pesca per fortuna, è quella di dare ospitalità alle persone. Per fare questo le opere di contorno, che sono appunto le attività sportive piuttosto che culturali, ci danno la possibilità di avere una visibilità maggiore e dare ovviamente quindi un'ospitalità maggiore ai nostri turisti. Questo aspetto è molto importante per noi perché è importante che la gente che viene a Caorle abbia da vedere le più cose possibili, abbia più opportunità di scelta nel panorama delle iniziative che ci sono qui a Caorle, quindi siamo sempre molto contenti di ospitare eventi di questo tipo che ci danno una rilevanza sia nazionale che internazionale, davvero notevole. C'è quanto riguarda l'attività del paese? Beh, abbiamo già 3 anni, sono arrivato con Samara in Italia, eravamo in Dimensioni anni fa, e mi piace. Ok, sono un fan di Italia, questo è quello che ho spaventato in Italia, mi piace, la mia figlia studia a Milano, c'è molta connessione, e l'ultimo anno siamo qui, mi piace davvero, il gym è buono, l'accommodazione, la città, la città è buona, la piccola, l'accommodazione, 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 quindi quando stavamo a planare la pre-saison, abbiamo questa possibilità di arrivare, ho detto al club che voglio essere qui. Abbiamo già giocato qualche gioco in Sardinia, stavamo subito, perché il team è molto nuovo, e abbiamo anche alcuni giocatori nel team nazionale, e non siamo completati. Ho spero, abbiamo ancora alcuni malattie, ma credo che tutti giocheranno nel tournament, e questo sarà un buon test per noi. Ovviamente sarà una bellissima esperienza, perché incontriamo squadre nettamente superiori a noi, come ranking, naturalmente noi siamo una squadra nuova per la Serie A2, figuriamoci, confrontarci con la Serie A, confrontarci eventualmente, se capiterà, per una serie di incroci anche con la squadra russa. Per noi speriamo possa essere, vogliamo divertirci e vogliamo essere competitivi, quantomeno essere dei buoni protagonisti di questo torneo. Il livello tecnico sicuramente il nostro non è paragonabile, però cercheremo di sopperire con l'impegno, con tutto quello che abbiamo, i nostri ragazzi sono giovani, speriamo che possano fare esperienza, su questo contiamo, che facciano esperienze e si confrontino con una fisicità diversa, con una tecnica sicuramente diversa, superiore. Speriamo di fare un passo avanti noi e di riuscire ad essere dei buoni sparring partner anche per le squadre di Serie A. È un'annata da scoprire, torniamo al Palaverde, speriamo di riportare entusiasmo e pubblico al Palaverde. Come dicevo prima, è una squadra giovane, quindi la crescita speriamo di vederla durante tutto l'anno. Quindi è una squadra che deve consolidarsi in questa categoria e deve crescere nel corso dell'anno. I nostri progetti sono a medio-lungo termine, quindi non abbiamo fretta, abbiamo la giusta pazienza, ma anche la giusta ambizione di poter riportare il basket di alto livello proprio a Treviso. Il progetto Passo al Giorno è nato nel 1985, dopo una visita del nostro fondatore, Dono Resca, che andò a visitare la nostra missione in Zambia. Venendo a contatto con il grosso problema della malnutrizione, uno di questi bimbi malnutriti scoprì che bastavano 10.000 lire del tempo, oggi 15 euro al mese, per poter garantire almeno un pasto al giorno per ogni bambino. Lui tornò in Italia proprio animato e spinto da questa forte ingiustizia che gli provocò un grande dolore e tornò con l'obiettivo proprio di trovare i soldi per dare un pasto al giorno almeno a tutti questi poveri. Oggi la comunità è presente in 32 paesi all'estero, oltre che in Italia, e abbiamo mense per i poveri, abbiamo capanne di betlemme in Italia, che sono strutture che accolgono senza fissa dimora, abbiamo una mensa in Bangladesh, a Chalna, abbiamo centri nutrizionali in Africa, come Dorker poveri in Sud America. Ecco, diciamo che Papu vuole essere, oltre che un'iniziativa di raccolta fondi, naturalmente per poter mandare avanti questi progetti, anche proprio un'opera di sensibilizzazione, di giustizia, di rimozione delle cause, per cercare di arrivare a vivere quella società del gratuito che il nostro fondatore ha tanto sognato.